Questa sera ho presentato alcuni temi riguardanti la sicurezza del protocollo BGP, quello che gestisce lo scambio di informazioni nell'internet globale. Ho spiegato in generale cos'è BGP, come funziona il routing di internet a grandi linee e poi quali problemi di sicurezza esistono, quali si sta cercando di risolvere e in che modi. Ho presentato Manners, un'iniziativa di Internet Society su una serie di linee guida per migliorare la sicurezza del routing globale e poi ho presentato un mio esperimento in cui ho provato ad annunciare, a rendere disponibile in alcuni internet exchange degli IP, tecnicamente senza averne il permesso, e vedere quali reti hanno comunque accettato questo mio traffico. Grazie a tutti.